un minuto con padre pio nei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo proprio nel coro della chiesetta antica di santa maria delle grazie proprio qui il 20 settembre del 1918 padre pio ricevette le stimmate dinanzi a questo crocifisso e proprio qui i frati hanno voluto lasciare l'abito che indossava quest'abito che diventa importante in questa giornata ovvero il 22 di gennaio del 1903 il giovane francesco forgione per la prima volta indossa questo abito l'abito dei frati minori cappuccini ecco viene compiuta dal padre maestro a morcone la vestizione quindi viene vestito di quest'abito e da quel giorno dal 22 di gennaio del 1903 cambia nome non sarà più francesco forgione ma sarà fra pio da pietrelcina il nome che gli venne imposto dal padre maestro ma quando noi ricordiamo questa data dobbiamo ricordare anche un'altra data un anno più tardi sempre nello stesso convento di morcone il giovane frate cappuccino al termine dell'anno di noviziato perché trascorrerà qui un anno intero emetterà i voti ovvero la professione temporanea quella che durerà tre anni per poi rinnovare questi voti con la professione perpetua in un altro convento nel convento di sant'elia pianisi ecco oggi qui per ricordarvi anche perché diversi sono i racconti e i video che abbiamo effettuato proprio ricordando il giorno della vestizione il giorno della professione di padre pio ma quello che oggi vogliamo ricordare qui come viveva l'anno di noviziato padre pio in questo convento qual era la vita del frate minore cappuccino la giornata cominciava alle 5 quando un confratello agitava la battola nel corridoio per la sveglia poi il novizio doveva alzarsi rifare il letto metterci sopra un grosso crocifisso poi doveva lavarsi e scendere in chiesa per la meditazione e quindi la messa alle 8 c'era la colazione olio e pane bollito dopo la colazione in cella studiare la regola le costituzioni dell'ordine un libricino di una ventina di pagine per tutto l'anno del noviziano non era consentito leggere altro libro dalle 11 alle 12 venivano svolti lavori vari nel convento come per esempio attingere l'acqua al pozzo pulire la chiesa quindi pulire anche lo stesso convento alle 12 c'era il pranzo consistente in pane e stufato molti frati infatti raccontano e ricordano quella terribile situazione ovvero terribile fame durante il noviziato che hanno sofferto il pranzo era seguito da una passeggiata nell'orto dove frati e novizi camminavano incolonnati e recitavano preghiere alle 14 e 30 si ritornava in coro poco dopo ancora studio fino alle 17 dalle 17 alle 19 lavori vari e alle 19 c'era la meditazione e il rosario alle 20 una cena frugale ovvio la cena era seguita da una mezz'ora di ricreazione e questa mezz'ora era l'unica possibilità che avevano i frati novizi di poter parlare sì perché durante l'anno di noviziato vigeva il silenzio il silenzio assoluto alle 21 si tornava in cella per preghiere personali esame di coscienza e riposo norturno quindi poi senza spogliarsi dovevano avere l'abito addosso ci si coricava sul letto però da un lato e si raccoglieva il saio tra le gambe posizione questa prescritta proprio per mortificare il corpo in questa posizione si doveva con il cordone fissare il fianco destro con un grosso crocifisso lo stesso crocifisso che avevano posizionato all'inizio della giornata questo grosso crocifisso di ferro posto sul letto proprio durante il giorno tenerlo stretto al cuore con le braccia in croce sul petto a mezzanotte tutti si alzavano in processione raggiungevano il coro per recitare il mattutino e le lodi e dopo circa un'ora e mezza si ritornava a letto cercavano di dormire fino alla sveglia successiva delle cinque del mattino ecco questa disciplina importante per i frati che lo stesso padre pio ha spesso ricordato durante gli anni che ha trascorso qui a san giovanni rotondo e ricordando i suoi confratelli che lui non ricordava neanche di come era fatta la chiesa conventuale dei cappuccini proprio la soffitta proprio perché i frati durante il noviziato dovevano stare con la testa china e proprio per questo c'è un piccolo episodio della mamma di padre pio che andò dopo qualche mese ad incontrarlo lui per le prescritte regole del noviziato non poteva ecco non poteva avere un atteggiamento quasi da figlio nei confronti di una mamma infatti lei disse franci e su stati contento sono venuta qui per trovarti per vedere se sta bene se ti occorre qualcosa perché fra pio aveva sempre il capo chino accanto al suo padre maestro sempre gli occhi bassi e lui disse sto bene mamma non ho bisogno di nulla in seguito poi la mamma raccontando quell'episodio ad un conoscente dichiarò e se sapevo che faceva così io non ci andavo proprio da mio figlio però qualche tempo dopo proprio il padre maestro padre tommaso che gli disse fra pio vive con noi ma è come non stesse con noi perché egli è così più avanti di noi in virtù e proprio per questo c'è anche un altro episodio quello del papà che appena tornato dell'america andò a trovare il figlio e subito quando lo incontrò ebbe un simile atteggiamento come quello per la mamma e lui subito il papà che era un po più più irruento più esplosivo da quel punto di vista disse ma che avete fatto a mio figlio non si riconosce più allora padre tommaso dovette intervenire dicendo fra pio siete sciolto dall'obbedienza e allora subito fra pio alzò gli occhi illuminati guardò il papà cominciò a sorridere e disse tata mio tata mio e lo abbraccio grazie a tutti Grazie a tutti.